Un applauso anche per Marilella perché lei giustamente ha queste bellissime creazioni artistiche che tu so fai da parecchio tempo e sono veramente molto belle per abbellire e arricchire anche le linee di tendenza degli abiti. Molto molto bene, grazie Bruno, sì io sono veramente soddisfatta delle mie creazioni, grazie Elka che mi ha dato l'opportunità oggi di venire su, grazie veramente e sono felice di farle indossare sopra delle splendide modelle che ci sono oggi. Le mie creazioni sono tutti fiori veri, cristallizzati e le potete trovare sulla pagina di Facebook alla voce le creazioni di Marilella, potete contattarmi e mi dico prezzi, mi dico tutto, sono veramente alla portata di tutti e sono molto belle, non perché li faccio io, grazie. E noi oggi possiamo attrezzare tutti quanti indossati dalle ragazze. Testimonial Silvia Valentinotti, un grande applauso anche alla nostra Silvia, sempre elegante, sempre alla page e adesso poi anche te o dottoressa come avevamo già detto in un'altra occasione. Sì, per me è un onore essere testimonia di questa marca fantastica in San Vincolo con i loro abiti, ho trovato delle persone scusate a farmi fare queste foto per la loro collezione e ringrazio Elka per aver creato tutta questa giornata appunto per pubblicizzare questa nuova marca. Molto bene, molto bene Silvia, e adesso per il piacere del pubblico ci fai una bella uscita, l'apertura ufficiale del nostro Define Comeridiano. Prego, un bel applauso a Silvia. Bene, bene, un bel applauso alla nostra testimonia all'ufficiale, la nostra bellissima Silvia Valentinotti e adesso partiamo con la sfilata vera e propria e quindi iniziamo con Carla. Forza con gli applausi, eh, le nostre ragazze. Andiamo con gli applausi. Si meritano tutto quanto. Carla, fermati, fermati qui, non scappare via subito. Allora, la domanda è classica, tu credevi di non parlare, invece devi dire due parole. Come è nata un po' questa passione tua per indossare gli abiti e per fare i defiletti? Ecco, da quando ho conosciuto Elka, lei mi ha chiesto... Effettivamente non mi usavo molto, perché comunque con le ragazzine mi metteva sempre in mezzo, quindi... Però mi diverto, quindi mi piace la compagnia, è una bravissima persona, quindi... E grazie a lei la scorsa settimana ho fatto le foto per il calendario del canavese, quindi... Meglio di così non poter andare. Direi di sì un evento importante che si fa ogni fine anno con il settimanale canavese, quindi... E so che hai avuto un sacco di voti, peraltro, eh, Carla? Certo, certo, tantissimi. Infatti, via, non potevo crederci perché comunque sono arrivata quarta e... Le prime ragazze avevano 17, 18, 20 anni, quindi io... Potevano essere le mie bambine, perché comunque io ho una bambina di 19 anni, quindi... Alla fine è una bella soddisfazione comunque. Molto bene, un applauso a Carla che si è comportata bellissima e la vedremo nel calendario del canavese. Facciamo un po' di pubblicità anche al canavese, visto che è anche il giornale della zona, della vostra zona. Bene, dopo Carla vediamoci l'uscita di Elisa. Eccola Elisa. Un bell'applauso anche per Elisa che indossa questi splendidi abiti griffati da Erika e da Roberto e che presentiamo oggi nel negozio dell'altra nostra Erika. Molto bene Erika, fermati un attimo, facciamo due parole anche con te. Anche per quanto ti riguarda la passione per la moda e per i defilè, com'è nata? E' nata nelle sfiliate che ho fatto sulla mia ballata. Tu sei di? Valle. E mi è piaciuto, mi hanno richiamato, è una cosa che mi piace. E' una cosa divertente poi quando si indossano dei begli abiti, come quelli che stiamo vedendo oggi in questo defilè, e mi piacerebbe anche doppio. Esatto. Bene, un bell'applauso anche per Elisa. E adesso è la volta di Bruna. Un bell'applauso anche per Bruna, un abitué dei defilè che organizziamo noi, sempre presente con il suo stile e con la sua bravura. anche lei indossa un abito di Roberto e di Erika, un abito molto molto bello. Fermati qui allora Bruna, io te l'ho già chiesto mille volte e non te lo voglio chiedere come è nata questa passione per la moda, e quindi dimmi qualcos'altro, quello che vuoi. No, no, il piacere di avverti di nuovo qua. Sono molto contenta di essere qua, sono contenta che Erika mi ha invitata e cosa possiamo dire? Viva Marena! Beh, senza dubbio, siamo qui, sicuramente stiamo apprezzando questi abiti e apprezziamo anche molto le creazioni artistiche di Marinella, perché ogni ragazza, ogni signora che sta sfilando oggi sta appunto indossando queste creazioni artistiche che sono molto molto carine. Assolutamente sì, un applauso anche per Marinella per queste belle creazioni. Certamente, bene Bruna, un applauso per te, tutto quanto per te. Beh, direi da una Bruna all'altra e facciamo Bruna 1 e facciamo Bruna 2, eccola qua, splendida Bruna, un bell'applauso anche per lei, strameritato. Bene, bene Bruna, un bellissimo abito anche da parte tua, poi anche tu hai le creazioni artistiche di Marinella che sono molto belle, come sempre, ne conosciamo perfettamente. Che dire di bello? Cosa mi racconti oggi? Che direi? Sono felice di essere qua da Erika, come sempre, lei è molto gentile perché mi ospita. e sono anche felice di poter indossare queste meravigliose creazioni di Marinella Borg e questi abiti a Marena che io non conoscevo e sono una linea veramente rispettiva. Bene, un complimento, un applauso a Roberto e Erika che permettono appunto di indossare, di vedere questo fantastico De Fileppo Meridiano qui a Mati. Bene Bruna, un bell'applauso anche a Bruna. Bene, adesso allora abbiamo la nostra padrona di casa che si prepara per la sua uscita e la vediamo immediatamente, un bel applauso per Erika Macario. Eccola qua, una tituè anche lei delle passerelle, oggi sfila in casa. Un bell'abito che ti devo dire, il posto è tuo, puoi raccontare quello che vuoi. No, racconta anche com'è nata questa collaborazione magari con la Marena di Erika e Roberto. Certo, grazie a tutti di essere qui, mi fa molto piacere, anche se il mio negozio è piccolo, sono contenta di ospitarvi. Dopo non scappate via perché dobbiamo tagliare la torta, che è una torta un po' particolare, non l'abbiamo ancora aperta ma per svelare il segreto. Io ringrazio davvero Roberto e Erika perché questa linea che vedete qua, tutta disponibile e che dopo potrete ammirare, è una linea che vestono le donne in carriera, le ragazze, ma tutte le fasce di età. Perché è una linea che va dalla Esther fino all'XL, è un comfort incredibile. Sono felicissima che la nostra amatiesi Silvia è diventata la testimonia, perché oltre ad essere qui la pubblicità, l'ha trovata in tutti i bar, perché abbiamo già propagato Silvia, oggi è qui con noi per la foto ricordo. Amarena è nata un po' per caso, perché l'ho scoperta un anno fa e da allora non potrei più fare a meno di Amarena. Infatti regalo anche alle mie amiche gli abiti, ho uno nell'armadio fantastico, tra l'altro ho scelto il mio regalo di Natale già nell'armadio, così vigilia ho Amarena e spero che vi sia piaciuta la sfilata. Fra poco vedete ancora un'uscita delle ragazze e grazie Bruno per essere qui, i fotografi Antonio, Luca, Elio, che è arrivato in ritardo oggi, ma è sempre con noi anche lui. Ringrazio il mio amico Mario per tutte le mattine chiacchieriamo della nostra vita e Tatiana, che lei ci raccontiamo ricette, ci scambiamo idee, la mamma di Silvia e tutte le amiche di Bruna e anche Marco che è arrivato qui in negozio. Bene, sono veramente felice e spero di continuare nel mondo della moda, speriamo di creare altri eventi. Tra l'altro il mio negozio è arrivato anche Infopoint per Miss Mondo, per le giovanissime, quindi qualsiasi informazione chiedete a me. Io direi Bruno di far partire le ragazze e ti lascio il microfono, grazie di tutto. Ok, grazie a te, un bel applauso a Erika che anche oggi ha organizzato questo bellissimo defile, un modo come un altro per apprezzare gli abiti di Roberto e di Erika. Ripartiamo e quindi cominciamo con la nostra testimonial, con la nostra testimonial ufficiale, Silvia Valentinotti. Andiamo con Silvia, elegantissima. Forza con gli applausi, così, bravissimi. Ci piace sempre sentire un po' di applausi per le nostre modelle che sfilano, un bellissimo abito nero. Molto bene, molto bello. Brava, brava Silvia, la testimonial ufficiale. Rimani con noi poi per le foto, naturalmente, di rito, classiche. E intanto noi rivediamo il secondo giro degli abiti e vediamo il nostro defile parte seconda con Carla. Incominciamo con Carla. Anche lei un bel abito nero. Sempre con le creazioni di Marinella che spiccano sugli abiti di Erika e di Roberto. Una bella accoppiata, una bella associazione. Un applauso per Carla. E adesso è la volta di Elisa. Elisa, ci sei? Continuiamo ancora con le nuanze in nero. Il nero piace moltissimo per questa seconda serie di uscite. Bene, bene, Elisa. Andiamo con gli applausi. Forza! Facciamo così. Bravi. Bravissimi. E dopo Elisa è la volta di Bruna. Bruna 1, perché oggi abbiamo Bruna 1 e Bruna 2. Bruna 1 in arrivo anche lei in nero. Seconda uscita per questi nostri bellissimi abiti. defilè delle nostre modelle che, come sempre, sul parquet, sul tappeto rosso, sul red carpet, sanno sempre come comportarsi e come sfilare. Con la consumente eleganza e con gli abiti bellissimi di Roberto e di Erika. E adesso Bruna 2. Ecco Bruna che arriva. Molto bene, anche in nero, anche Bruna. Anche per Bruna un'altra uscita classica in nero. Bene, molto bene. Brava, brava anche Bruna. E adesso proporrei un'uscita di tutte quante le nostre modelle, accompagnate da Erika. Prego. Una bella uscita di tutte quante. Eccole. Molto bene. Un'uscita finale di tutte quante. Di Carla, Elisa e due Brune. Ed Erika, la nostra padrona di casa, fra virgolette. Molto bene. E adesso spendiamo la nostra testimonia all'Erika. Io chiamerei anche la nostra Marinella con noi. Marinella, ti vogliamo delle nostre? Eccola. Chiamerei Roberto e Erika per la foto finale. Ma la cosa più importante, io farei un forte, forte applauso alla nostra bellissima testimonia. Le auguriamo un futuro nel campo della moda, perché oltre a essere dottoressa è anche bellissima. Silvia è cresciuta nella danza, nella moda. Sarà l'orgoglio di tutta la famiglia e delle amiche. Stasera l'interante ci sarà il party a Marena qui nella zona. Chiamiamo Silvia e un forte applauso. Eccola. Silvia è una pasterella tutta tua. Molto bene la testimonian, Silvia Valentinotti, con un'uscita davvero elegantissima. Rigidamente e classicamente in nero. E adesso, ragazzi, non scappate perché vi ho fatto una piccola sorpresa, anche per Marinella. E poi, lo dite, tagliamo la torta? Tagliamo la torta, questa è sempre una buona idea, Erika. Però un piccolo cadeau da parte di Erika per la nostra testimonian. E per le ragazze che hanno partecipato questa sera, brave tutte quante, Carla, Bruna, Bruna ed Elisa, molto bene. che sono omaggiate da questi bellissimi fiori da parte dell'Erika. Grazie.